Ciao mondo e benvenuti in questo nuovo video Spesa Quindi non sono da Sono da E quindi abbiamo speso tantissimo Allora Eurospin abbiamo preso questa fantastica lanterna per Bestie, che stai facendo? Vieni qua mentre fai queste cose Ma dove mando a cena fra 5 minuti? Mentre fra 5 minuti, fra 9 e mezzo o 2 e ho fame Questa, entri dentro Quando ho finito di mangiare Ma fammi almeno che cosa mangi Ciao a tutti Mangio la barretta, questa è gusto pro ciuccolata, latte e cocco Le troviamo da Conan Due pomodori giganti russi Sì, è lo spinto Pomodorini e datterini gialli Pesche, piatte, pasta gialla Andiamo un po' di fretta Pomodorini piccadilli Stavolta mi vergogno quasi Sai quelle instagramer che fanno una foto con i fiori tutte nude con i fiori così e i jeans? Io potrei farla con i cetrioli, però non sarebbe molto sexy Vabbè raga, ci piacciono tantissimo Sapete io dove li puccio? Madonna che cazzo le cesti Dove li puccio? Nella salsa di soia Bene Nuova busca Tanto faccio tuttora sola Bravo No quella Allora Rucola Poi crackers con il riso soffiato sopra Funghi pleurotus Pleurotus Esatto Quello che dice lei Sono tantissimi quindi l'ho presi Un pan bauletto integrale Funghi affettati Champignons Questo che si prende sempre di Christian che è una roba pronta Succo tropicale che poi preferivo, vabbè dopo vi spiego Ma hai finito di boiare a mangiare? Sì Questi che ho mai presi sono carciofi, oliveneri e capperi vegetariani Vediamo come sono, ce ne sono quattro in realtà non capisco perché Vabbè gli altri due sono massi su ma ci sono Salsa di pomodoro datterino sigiliano Buonissimo questa A tre euro mi pare ho preso i fanghi per le zampe I fanghi rassodanti Mi voglio rassodare tutta Bravo Secondo voi tre euro me la sono Come tesora, come l'uovo Sale per lavastoviglie Che è quello normale Non fatevi ingannare Domani qualcuno ha intenzione di fare la No, il barbecue Quindi giustamente questo era già bello e pronto The marketing style Sì, ma questo l'abbiamo preso anche un'altra volta ed era buonissimo Sì, è vero Che cosa abbiamo? Pollo Pollo Allora ho preso il petto di pollo, ho preso il vitello Sono uguali E another gusta Ah, caccia piccante Abbiamo speso da euro spin 119 Alla faccia due pubi di struccanti Sì, struccanti dischetti Dischetti struccanti Allora, questi che si stanno scongelando sono due spinaci in foglia Mettili in un cassetto in mezzo No, qui Poi ho ripreso per l'ennesima volta la spuma Questa qua per detergente viso è fantastica Ve lo dico e ve lo sottoscrivo ACD si chiama ACD Due buste di parmigiano reggiano Cretciciano Christian ci ha avuto qualche problema con i guster Questi qua Questa la confezione era così grande Quindi questo è Serbalove E questi sono i Bratwurst Bratwurst Ketchup non piccante, quello classico Prosciutto crudo, era pure in offerta Due bei peperoni Rossi Che mangierai tu, se no io di notte e poi dopo sogno i draghi Riso basmati Ricottine senza rattosio Poi Le zucchine chiare Era l'ultima E le ho trovate Poi ho preso questo perché ci voglio fare una sorta di Diciamo quando a Christian mi faccio le zuzzerie delle piadine Voglio fare la maionese e la misi con queste Ti faccio una sorta di Salsa Salsa, esatto Carciofine interi Sì Poi penso che Eurospin sia Termination Sì Facciamo un rapido salto Epicasa Sì, da Epicasa Vi faccio vedere che cade ho preso io Perché sono una brava persona Allora abbiamo aperto la piscina di fuori Mi sono presa delle ciabatte da esterno Per la piscina Vedremo come mi stanno Poi 7 euro Poi Christian ha preso sempre per il bar Perché ho questo coso Che serve per Soffiare Soffiare sulla brace Lo faremo vedere forse Sì, forse Sulla carbonella E poi ha preso questa qua Che è per accendere Ma sono quelle No, sono quelle Fibola di legno Perché non accendiamo con quelle Con la diavolina Insomma Per non avvelenarci Mangiare poi sta roba E abbiamo preso un ventilatore Questo a colonna A colonna Perché voglio Levare dalle palle Quello rotondo Gigante Che tra l'altro Anche rotto Allora Andiamo con la cry Oggi scusate Ma velocità Perché Che merito Molto Allora 51,05 Bello che da Ero spin E tre busti E 110 La cry E una busta E 51 Lo sai Patatine per domani Rustica San Carlo Perché col barbecue Ci stanno Ci 10 Perché quest'anno L'albero ci ha traditi Sì, abbastanza C'erano dei mosconi No, dei mosconi Dei calabroni giganti Che se sono mangiate tutte Praticamente Questo capocollo Perché dall'euro spin Faceva Stifolo preso di qua Coca-Cola a zero Del pane alle olive Perché non lo trovo mai Vediamo come sarà Melone Oh, cattarola I gelati Questi gelati sono buonissimi Sono piccolissimi E sono buonissimi Sono scorti Portali di là Poi ho preso Dei mini gristini integrali All'acqua E Christian Si è preso I suoi budini Della Milk Pro Questi qua Cioccolato Caramello E vaniglia Sì Poi La salsa di soia Con poco sale Perché ce l'avevamo Quasi finita Chris ha preso La sua mozzarella Adesso ha cambiato Non prende più La marchigiana Prendela col fiorito Le golle Che si metterà In macchina Poi Ha preso Questo qua Che praticamente È Ananas e cocco Senza zucchero È veramente buonissimo C'è da dire Poi fresco Non vi dico Quanto è buono E Aia Mi sono fatta malissimo Ragazzi Concludiamo Volevo dire Con Estate pesca Estate limone Zero zuccheri La spesa È Terminata Se mio marito Mi raggiunge Adesso non posso Adesso non può Quindi Mi farete compagnia Un pochettino Che vi devo dire Prima o poi Mio marito Ci raggiungerà E saluteremo Tutti Mi conviene Salute a tutti Mi conviene Che saluto Perché Mi vale Avete capito Che È abbastanza In ritardo Va bene Allora Niente Vi saluto io Perché Lui Casomai Farà ciao Da lontano Ciao Bene Noi ci vediamo Nel prossimo video Spero che questo video Vi sia piaciuto Scrivetemi nei commenti Che cosa ne pensate Della nostra spesa E noi Ci vediamo Nel prossimo video Oddio Io non ci arrivo A spegnere Ma che ce la posso fare